Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo mio nuovo video in cui vi mostrerò i prodotti terminati nel mese di marzo per quanto riguarda l'alimentazione. Allora, prendo a caso, li ho qui per terra, e vi mostro che cosa abbiamo assaggiato. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo tè in frè, che ho trovato nella degusta box del mese di marzo, antiossidante, classico, e ci è piaciuto molto, soprattutto a me, i miei figli non gradiscono molto il tè, perché non era troppo intenso e forte come gusto, come sapore. Quindi, buono, con il miele e il limone è venuto buonissimo. Poi, ho acquistato questo snack di frutta mista essiccata, che contiene anacardi, uva sultanina, nocciole sgusciate e noci del Brasile. Sono 30 grammi di prodotto, e l'ho acquistato una volta che dovevo stare fuori per un corso, avevo un fortissimo mal di testa, avevo una pastiglia da prendere, ma non ho niente da mangiare, e non volevo aggravarmi, diciamo, con le calorie, e quindi ho acquistato questi qui. Sono molto buoni, molto gustosi, ma comunque non mi è passato il mal di testa in quell'occasione, me lo sono tenuto fino a sera, quando ho potuto prendere una pastiglia più seria di quelle che avevo. Poi, vi mostro questo vasetto, ho perso il tappo, ma è pulito, di Simil Nutella, che si chiama Nut Break Cream, che non ha niente a che vedere con la Nutella, ma che comunque è commestibile. Non è un granché, però noi l'abbiamo mangiata lo stesso, la usavo per fare i panini al merenda ai miei figli a scuola. Poi, vi mostro questo miele, della Florapis Miele, in questo caso un miele all'eucalipto. Allora, era molto buono di sapore, ma è sempre rimasto cristallizzato, e quindi non mi è piaciuto, perché a me piace il miele quando è buono, quando è fluido, quando ha proprio quel modo di essere trasparente. Insomma, questo era tutto cristallizzato, opaco, buono di sapore, ma non era come lo desideravo io. Finiti dei carciofini sott'olio, che ho usato, questi sono della marca Sotta, comprati al discount, mangiati come antipasto, così per sbocconcellare. Poi, questa ho fatto un video dedicato alla crema a pan di stelle, eccola qui. Cioè, piaciuta, non l'ho più ricomprata, in realtà non è una cosa che ci ha fatto impazzire, se volete abbiamo fatto il video assaggio di questo prodotto. Poi, un altro coso di carciofini, poi, no, qua siamo un altro genere di cose, queste barrette di cereali della Vitasnella, queste sono ripiene di prugna, poi le ho anche all'arancia, contengono 94 calorie alla barretta, sono buone, imbustate singolarmente, mi sono piaciute, sono un ottimo snack ipocalorico. Sempre in quanto riguarda snack ipocalorici, ci sono queste della Conad Piacere Sì, che sono barrette di riso e frumento integrali con cioccolato fondente. Queste contengono 95 calorie ognuna e hanno le gocce di cioccolato. Buone anche queste, le compro random, a volte un gusto, a volte l'altro, perché mi piace provare. Ho ancora dei prodotti sparsi qui per terra, vi mostro questi crostini dorati della Buitoni, che sono fatti così, li ho usati per fare degli antipastini. Io ho fatto degli antipastini simili a questi, con il salmone, ed erano molto buoni, in Philadelphia e il salmone, e insomma si fa una bella figura senza fare chissà che. Poi, appena terminati questi della Mulino Bianco, trovati nella De Gusta Box, sono dei croissant integrali con ripieni di frutti rossi. Li hanno mangiati i miei figli, si vede infatti da come li hanno aperti. Io non ne ho assaggiato neanche uno, perché sono terminati nel giro di tre giorni. Ce ne erano dentro sei, ho visto che li hanno spazzolati, e quindi suppongo che siano piaciuti molto. Poi, vi mostro questi biscotti della Coop, che sono delle, tipo, le gocciole, sono dei frollini con gocce di cioccolato, buoni, inzupposi, mangiati anche questi dai miei figli a colazione, ci sono piaciuti tanto. Devo dire che sono andata alla Coop a fare una piccola spesa, e mi è piaciuto molto come qualità. Il prezzo è un pochino elevato, però voglio provare a fare una spesa un po' più corposa, la Coop, e poi vi faccio magari un video. Poi, ho qualcos'altro, sì, sempre dei biscottini. Questi li ho comprati al Prix, che sono tipo pan di stelle. Si chiamano stelline con cacao e nocciole, i pan di stelle sono molto più buoni, ma questi costano la metà, e sono buoni comunque. Quindi, io non è che mi faccio grossi problemi a prendere i prodotti equivalenti. L'importante è che comunque la qualità di quello che mangiamo sia valida, insomma, che siano comunque buoni. Poi, ho quasi finito, scusate, guardo per terra perché mi si era sparso tutto. Sempre della Coop, frollini al cacao e panna. Questi qua sono tipo gli abbracci. Anche questi tanto buoni. Mi piacciono proprio le cose della Coop, almeno quelle che ho provato in quella piccola spesa. Per questo voglio provare ad andare a fare una spesa più grossa alla Coop. Ultimo prodotto sono queste piadine della Roberto. Questa in particolare è una piadina con olio extravergine di oliva. L'abbiamo mangiata anche poco fa e devo dire che sono buone, leggere. Io le preparo per i bambini come alternativa alla cena o al pranzo. Non ho altro, mi guardo intorno, no, non ho altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, girato un po' in velocità perché è sabato e mi aspettano un sacco di cose da fare. Vi saluto, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!